Cristina Marino sul social risponde i fan. L'attrice, modella imprenditrice spiega il significato dell'ultimo tatuaggio fatto a febbraio 2021. La moglie di Luca Argentero ne ha nove in totale, lo rivela sul social. Incinta del suo secondo figlio. Dopo Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, la 31N si è fatta incidere sulla pelle un disegno con un significato davvero speciale. La Marino ha scelto come tema del tatuaggio un quadro astrale in cui, in un cerchio, si vedono, in ordine, dall'alto verso il basso, Venere, la Terra, la Luna, Nettuno e Giove. Questo è il mio preferito svela il tema natale di Nina Speranza. Che per una magica congiunzione astrale corrisponde alla data del mio matrimonio. Lei e Luca si sono sposati il 5 giugno del 2021. La Marino sta vivendo questa sua gravidanza con una gioia infinita. Il bebè, di cui non ha svelato il sesso. Ma che si vocifera possa essere un maschietto, dovrebbe nascere tra gennaio e febbraio 2023. Con Luca la relazione va al massimo, il loro segreto? Ci corteggiamo tutti i giorni. Ci prendiamo cura l'uno dell'altra, confessa. Grazie a tutti.